. Quali sono i segreti per un corpo come il suo? Tornata in forma a tempo record dopo la nascita lo scorso giugno dei gemellini Rumi e Sir, Beyoncé non perdi occasione per sfoggiare su Instagram i suoi outfit. . E, ovviamente, il suo corpo. Perché, che indossi un abito elegante o un look sportivo, la pop star è la quintessenza della sensualità. Ma quali sono i segreti per mantenersi così?. Una dieta rigorosa. Beyoncé eccelle in ogni cosa che fa, sul palcoscenico, sul red carpet, nei suoi video musicali. . Non c'è occasione in cui non appaia splendida. . Con buona pace della quasi totalità delle donne che abitano l'universo. Sexy e seducente, anche quando si fotografa in versione mamma e moglie tra le mura di casa, Quenby ha in realtà dichiarato che come tutte anche lei si trova a combattere con dieta ed esercizio fisico. . . Non sono per natura la donna più magra del mondo. . . . In quell'occasione, sperimentò moltissime ricette super salutari e del tutto prive di carne, il ragù vegetariano, la zuppa di zucca, le bietole speziate alla maniera indiana. . . Fino a quando è arrivata a sposare una dieta esclusivamente a base vegetale, che prevede alimenti come gli smuoti e proteici con latte di mandorla, frutta ghiacciata e spinaci. . Il mio peso ha iniziato a calare, senza che la pelle perdesse in tonicità, ha dichiarato a sostegno di quella scelta. . . Ma non è solo una questione di chilogrammi in più o in meno, per Beyoncé. . . Dopo la nascita della primogenita Blue Ivy, ha perso i 27 kg accumulati tornando al suo regime alimentare a base vegetale e ha ricominciato subito ad allenarsi, introducendo nella sua giornata brevi sessioni di training da 5 minuti luna. . Devi dare il massimo, non importa chi sia il tuo allenatore o quale programma tu sia seguendo. . Devi restare in salute e compiere le giuste scelte, ha dichiarato a Self. . L'accettazione di sé. . . Per mantenere il suo corpo così come lo vediamo, e per sopportare lintensità dei suoi concerti, Beyoncé si allena con la boxe e con la corsa. . Mentre, per il suo famoso lato B, fa molti squat con i pesi, è un esercizio perfetto per tonificare tutti i muscoli. . . Anche se non fai nientaltro, con questo fai un discreto allenamento, ha dichiarato il suo allenatore a glamour. . Quindi la ricetta più semplice, quella messa in pratica da Beyoncé, allenamento e sana alimentazione. . Ma non c'è solo la palestra, per lei. . Danzare è la cosa che mi tiene più attiva. . Metto su una canzone che mi piace e faccio i pesi, cercando di bruciare il più possibile, ha spiegato. . . È quindi, come tutte, un essere umano. . Si allena duro, ma non si mette addosso troppa pressione per raggiungere risultati che il suo corpo non potrebbe per natura raggiungere. . 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